Siamo nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Maria della Speranza con il professor Vincenzo Patella che ne è responsabile. La novità qual è? Che il reparto è stato interamente cablato, quindi una novità essenziale e importante. Sì, questa possibilità tecnica ci ha dato la possibilità di utilizzare in alcune stanze del nostro reparto, stanze di isolamento, la possibilità di parametrare i nostri pazienti, cioè significa avere continuamente delle informazioni su quelle che sono il tracciato elettrocardiografico, la saturometria, la pulsometria, le informazioni legate alla nitide carbonica e tutti quelli che possono essere i parametri cosiddetti vitali, quindi pressione arteriosa, frequenza cardiaca e il monitoraggio del paziente viene centralizzato in questa struttura che è un po' la centrale del reparto che è la medicheria. In questo modo abbiamo la possibilità di avere dei pazienti in subintensiva, quindi pazienti a media intensità di cure, immaginiamo che i pazienti ad alta intensità di cure sono quelli intubati della rianimazione. Alleggeriamo in questo modo il peso delle rianimazioni, diamo la possibilità alla rianimazione di accogliere più pazienti chirurgici e noi gli diamo una mano per questi pazienti che hanno difficoltà cardiorespiratorie.